Gli affari del clan Santa Paola Ercolano si concentravano soprattutto nel settore commerciale, in quello della ristorazione e delle attività ricreative. Era così che la mafia catanese aveva accumulato un patrimonio milionario che è stato sequestrato. Ristoranti, impianti sportivi, un lido, un auto a lavaggio e anche un salone di bellezza erano intestati a prestanome della famiglia mafiosa. Con l'operazione Bulldog, la polizia di Catania ha arrestato otto persone, tra cui Roberto Vacante, nipote del campo mafia Nitto Santa Paola. Per la moglie di Vacante, Irene Grazia Santa Paola, indagata per intestazione fittizia di beni, e per altre sette persone, è stato disposto invece l'obbligo di dimora.